Musica Due nidi di caretta a caretta ritrovati sul litorale di Bonifati, in provincia di Cosenza. Uno dei due già schiuso, l'altro messo in sicurezza dai ricercatori, nel Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze da Terra dell'Università della Calabria, e costantemente monitorato. Le operazioni sono condotte anche grazie alla collaborazione d'associazioni locali e del circolo legambiente di Belvedere Marittini. Con quest'ultima scoperta sono tre nidi di tartaruga identificati con precisione sulla costa tirrenica della Calabria, che tenuto conto dei 17 cent siti sul lato ionico, e oggi la regione italiana più importante per la nidificazione della caretta caretta. Grazie 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 Grazie